Ciao ragazzi, ben arrivati su RPE. Quando è stato creato questo progetto? Quando è nato? Il vostro modo di intendere la musica? Molto selvatico, molto istintivo, direi? Sì. Ok, mister Fognedarla mi dice sì, con la testa. E' la prima volta che mi succede una cosa del genere. Domenica alle 21, sul divano con. Ospite, animo formidable.